Riccardo Pavanato, ingegnere padovano, fondatore della società di consulenza Auxlel, ha dichiarato Vorrei assumere dei ragazzi giovani ma si palesa una difficoltà inconsueta trovare persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, di imparare, di crescere, di lavorare, di fare fatica Fatica non di quella fisica da cantiere, ma quella fatta di scambi di opinione, di trasferte del sentirsi messi in discussione a fronte di un contratto vincolato ai risultati Secondo te questo imprenditore ha ragione? Effettivamente i giovani come te fanno fatica a mettersi in discussione? oppure no, sta esagerando? Secondo me dipende perché ci sono molti che magari cercano lavoro però poi gli viene proposto qualcosa e non hanno voglia di fare oppure non hanno voglia di mettersi in gioco però d'altro canto ce ne sono molti altri che magari non vengono considerati o comunque non trovano l'occasione giusta che magari avrebbero voglia di fare invece quindi dipende dal ragazzo, dipende dal carattere, molti però è vero non hanno voglia di fare o non hanno voglia di mettersi in gioco Secondo te perché? Questo non lo so, secondo me manca lo spirito giusto delle persone ultimamente è così, però io lo spirito ce l'ho quindi sono un po' di parte diciamo così Pensi forse che il contesto sociale possa influenzare questo spirito? Sì, molte persone anche all'interno della famiglia possono essere viziate, hanno la papà pronta, queste cose qua io sono del parere che sì ok va bene essere viziati ma poi ti devi mettere in gioco tu, devi viverti una vita tua, devi essere te stesso quindi datti una mossa e cerca qualcosa Tu accetteresti mai di andare in trasferta per lavoro? Sì, penso di sì Qual è quella? Un'esperienza nuova Un'esperienza nuova, qual è quella condizione invece che non accetteresti mai? Domanda difficile, non lo so, dipende Un contratto a provvigioni per esempio? Ci dovrei pensare, per esempio Perché tu ambisci a un contratto a tempo indeterminato immagino? Sì, sì, anche lì sarebbe una grande sicurezza diciamo Dipende da cosa gli vogliono offrire, se sono contratti a stage in cui gli sfruttano dicendo che gli daranno un'altra opportunità e quando è il momento li buttano via, hanno ragioni i giovani In questo caso specifico le dico, l'imprenditore propone un contratto a tempo indeterminato Bisogna dire chi becca, cosa propone? Cioè se tu mi proponi un tempo indeterminato in cui devo viaggiare e lo so io lo accetterei, non so i ragazzi Secondo lei perché molti ragazzi preferiscono rimanere vicino a casa piuttosto che andare lontano? Sì, perché sono viziati Quindi è un po' colpa dei genitori? Sì, nettamente Quando ti dicono, ma no, aspetta, è distante, è un sacrificio Quando ero giovane io, mio padre mi cacciava via a calci Quindi lei ha comunque dovuto mettersi in discussione quando ha iniziato a lavorare? A 18 anni ero già in Libia a lavorare In Libia addirittura? Una dita per il lavoro estero Cose che oggi sembrano effettivamente difficili I imprenditori non hanno più coraggio O forse preferiscono fare l'alta finanza Se volessero ancora fare gli imprenditori e andare all'estero Penso che troverebbero qualche ad uno Forse oggi ci si lamenta un po' troppo? Sì Non hanno, cioè, è tutto un lamento Ma fatti sulle maniche dati da fare, basta Poi quello che viene, viene Beh, secondo me i giovani fanno fatica sì Perché anche si sentono abbastanza scoraggiati Nel fatto che non riescono quasi sempre a trovare qualcosa che faccia per loro come un lavoro Quindi quando riescono a trovare qualcosa che non è pertinente alle loro desideri anche lavorativi E trovano un lavoro in pertinenza altrove E quindi si entrano anche messi in discussione su una cosa che magari non sono capaci di fare Oppure stanno imparando sul momento e si entrano sottovalutati Non si sentono all'altezza delle loro proprie aspettative Quindi si sentono più scoraggiati su questo fatto E quindi appunto trovano più difficoltà nel lasciarsi più, lavorare più tranquilli E anche il fatto di trasferti si sentono anche abbastanza scoraggiati Il fatto anche di abbandonare un posto dove tu sei abituato a stare Quindi è il contesto comunque che influenza negativamente il lavoro e la predisposizione dei ragazzi? Sì, principalmente sì, secondo me Se ti proponessero un lavoro che è inerente a ciò che hai studiato E a ciò che vorresti effettivamente fare Però te lo proponessero lontano da casa Tu lo accetteresti oppure no? Io sì, lo accetterei Perché mi piacerebbe anche molto viaggiare per lavoro Cioè lavorare e viaggiare Viaggiare è anche uno dei miei sogni Perciò accetterei molto volentieri il lavoro io Quindi la trasferta non è un problema? No, assolutamente No, assolutamente